Sai papà, poi alla fine per quel progetto devo trovare un bambino di colore. Che vuol dire di colore? Puoi chiedere a Henry, quel tuo amico che ha il fratello piccolo? Sì, in effetti potrei chiedere anche a lui. Ma che vuol dire di colore? È come Luigi, quel bambino di cui parlavamo. Di Luigi! Andrea! Ma non so che stai di colore? Davvero! Che cosa vuol dire di colore?